La signora Maria Ceccarelli Iniziamo con la coppia di Greyhound Lupi Cecoslovacchi Riese Schnauzer Seter Irlandesi Rossi Bracchi Tedeschi a pelo corto Australian Cattledog Shiba Volpini italiani Boston Terrier Chihuahua a pelo corto A Allora, il raccruppamento delle coppie maschio e femmina dello stesso allevatore. La femmina solitamente è più piccola, ma il giudice non deve guardare, cioè si riconoscono per i caratteri morfologici un maschio dalla femmina, non c'è bisogno di controllare il sesso. Allora, anche qui abbiamo un bellissimo numero di coppie. Ok, la signora fa una selezione. Boston, Shiba, Bracchi tedeschi a pelo corto, Riese Schnauzer. Greyhound, grazie agli altri, usciamo dalla parte opposta per cortesia. Ok. Che buona Taraviva! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, abbiamo quindi il Greyhound, la coppia di Reese Schnauzer, Bracky tedeschi, Shiba, Boston Terrier. Grazie a tutti. Allora, ci siamo al terzo posto Boston Terrier, al secondo posto Greyhound, vincono Shiba. Grazie a tutti. Grazie a tutti.